Piacenza, città immersa nella pianura padana, può annoverare tra i suoi figli più celebri la migliore italiana nella categoria under 20 nell'arrampicata. Grande infatti la soddisfazione della 19enne Savina Nicelli che in Trentino ha conquistato la medaglia d'oro nella combinata valevole per il campionato italiano giovanile di arrampicata sportiva. Le mie due discipline forti sono il boulder e soprattutto la lead, quella in cui ho vinto. Durante la gara di lead soprattutto sono riuscita sia in qualifica sia in finale a mantenere la concentrazione ma anche rimanere calma fino al momento giusto, cioè proprio fino alle ultime prese della finale dove sapevo che dovevo assolutamente chiudere la via. Poi io non sapevo in realtà se la ragazza che era salita prima di me l'avesse effettivamente chiuso o no ma appunto il mio desiderio era di vincere chiudendo la via. Nella disciplina di boulder invece ho ottenuto un secondo posto diciamo un po' inaspettato. La mia ambizione era quella di arrivare in finale e poi ipoteticamente puntare ad un podio ma pensavo al massimo un terzo posto e invece poi alla fine sono riuscita ad arrivare seconda. Quindi sì, questa è stata una gioia inaspettata e con questi due piazzamenti poi sommati alla speed sono riuscita anche a vincere la combinata, anche questa inaspettata. Ora testa e mani alle prossime salite da compiere con un sogno da realizzare chiamato Olimpiadi. Lo potrei chiamare un sogno in divenire perché il 2028 è molto lontano quindi diciamo che se continuo a migliorare in questo modo potrei provare a puntarci. Grazie.